Grazie a tutti Bene Ti insetti era come Shommerio La butta via Ci sono per migliaia di visualizzazioni Ma di fatto che cominciamo anche Quando ci sono fuori io e Henry O con Mauro Io la commentiamo Ingacciamo il microfono E si commenta La po' uomo e palla Bravo Thomas Via Spiazzala Grazie a tutti Grazie a tutti I due squadri si studiano 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 un'associazione dell'info Sì, è addormentato l'acqua. Allora, forza! Questo è bravino. L'orientato, il biondo, quattro. Uno, due, tre. Riuscivo a chiare. Guarda, c'è il braccio, mi devo mettergli l'elastico. Allora, bravi, bravi, bravi! Guarda! Adesso entro in un corredorio. Adesso ho visto la cucina. Adesso ho messo il petto fuori, quel petto mortico. che mi sta allargando. Bravo Ferro, la partita più importante è la partita, la perdiamo così. L'altro, c'è broglia che non si è mosso più da metà campo questo giro. Ha finito la benzina. Bravo Lapo! Anche dentro è un basso di rinno, non è finito. Alla sua età. Non è finito la pasta. Bravo! Sexo. Sexo. Robano. Wow. Vi avete fatto il sabato, ieri. Adesso canto? Dueici. Cirnici. Però ci sta. Vai Manu! Vai Manu! Bravo! Bravo Ben Lotz! Sì, la Puppe! Oh, ma cazzo! Ma io ho tutti i fortini difendono! Guarda che... Ma va fortissimo la Puppe! Guarda che quello lì su tiro, ce la sente! Mi giuro! Guarda di giusto! 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 Sì, guarda di giusto! Bravo! Bravo Manu, vai! Buono Canaro! Applauso! grazie bravo Lappo preso si è scelto e lei che comincia non lo so il 2002 piccolino presa presa guarda lungo tra lui il canestro mano mi prendono il ferro esplodono se la terra se tu mi fai giocare con il pallone normale visto l'anno scorso alla fine abbiamo avevo qualche 2002 che diventavano queste cose che l'anno scorso mi cominciano a fare veramente buona ci saranno di più perché questo qua fa ferro bravo 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 vignano forza vignano 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 stupido la settimana scorsa ho fatto il record negativo di 40 punti però Logan ha fatto meno 23 per gli esseri ci trovano adesso contro testi 45 alla 98 abbiamo il doppio campionato quello uno contro uno e invece quello della bc che è classifica è stato è stato amoroso è stato ammolato per seconda i ragazzini primi le alleniamo non c'è del volontario non c'è del volontario è stato ammolato è stato ammolato e l'ha fatto pure giocare è stato ammolato anche io in settimana è corto invece poi ero in giro perché il picma è ancora rotto è stato ammolato è stato ammolato in settimana è stato ammolato grazie